Il big match di giornata, quello tra Sant'Ermete e Morciano. Il Sant'Ermete si gioca l'ultima speranza per sperare nella vittoria finale del campionato. Il Morciano vuole mantenere il primato dopo averlo raggiunto nel precedente turno. Il pareggio serve agli ospiti, non certamente a Sant'Ermete che deve per forza vincere. Invece i morcianesi hanno due risultati su tre a favore. Nuova Feltia, ovviamente, permettendo pubblico delle grandi occasioni per la gioia del cassiere, direbbe qualcuno. Il presidente Martino vuole riscattare questa stagione giocandosi tutto per tutto nel rasso finale. Il Morciano sa che il proprio destino dipende solo dalle proprie gambe. L'inizio non a caso è di marca ospite. Ottaviani viene chiuso a sandwich tra Vucai e Castiglioni. Lo stesso numero 11 si incarica del calcio piazzato che fa esplodere la tifoseria. Ospite, la sotera forte, preciso e angolato che viola la porta difesa da guerra. Per la precisione, i tocchi di Brisigotti, Ottaviani si libera di Bianchini e batte l'estremo di casa. Il reprei a cura di Eugenio Angelici mostra la crudezza del numero 11. Il Santermente risponde nell'immediato con queste incursioni del prete neutralizzata da Gabellini. Bianchini poco dopo appoggia per Vucai che sporca la propria conclusione non incidendo come vorrebbe. Lo stesso numero 10 si fa perdonare poco dopo trovando l'angolo vincente a mezza altezza che fa gridare questa volta a gol la tifoseria di casa con la panchia di Paperini che si getta in campo ad abbracciare il proprio numero 10. Il primo tempo si conclude con questa punizione di Ottaviani che termina alta. Della serie non è sempre domenica. Nella ripresa Bianchini prova ad imitare Ottaviani direttamente a calcio piazzato con la barriera mocianese che devia la sfera in angolo. Ancora Bianchini protagonista sulla destra ma il tiro cross neutralizzato da Gabellini. Nel finale lo stesso Gabellini deve intervenire in maniera sporca ad evitare il peggio su questo attraversione di Vucai ad innescare lo scatenato Bianchini. Termina su 1-1 il big match con il Santermente che saluta la stagione con tre punti ottenuti a tavolino già da questa sera con Real Miramare. Con il Morciano che scongiure a parte si prepara alla grande festa ma se è vero come diceva il grande poeta Torino Guerra che l'ottimismo e il profumo della vita certamente non manca al presidente del Santermente. Allora abbiamo fatto una bellissima partita, un girone di ritorno sensazionale, forse la squadra che ha fatto più punti di tutti. Ci sono un po' di rimpianti però non è finita qui. Vediamo come va l'ultima che noi fortunatamente sappiamo già che abbiamo vinto e in caso siamo pronti per i playoff dove speriamo bene perché la fiducia è molto alta. Dopo il presidente del Santermente ascoltiamo l'analisi dei due tecnici Pazzini e Amadori. Stavamo a vincere, abbiamo provato a vincere in tutti i modi, siamo andati sotto purtroppo pur avendo fatto un buon primo quarto d'ora, primi 20 minuti purtroppo abbiamo preso questo gol ma stavamo schiacciando l'avversario nella loro metà campo. Abbiamo continuato a macinare il nostro gioco, fatto di ripartenze, fatto di cambi di campo perché abbiamo gli attaccanti veloci però purtroppo siamo riusciti solo a pareggiare pur avendo avuto soprattutto nel primo tempo diverse occasioni. È stata una partita non facile, lo sapevamo, contro un'ottima squadra, non a caso non ha mai perso in casa Santermente. Siamo partiti forti noi, in buon approccio, siamo andati sopra su pallina attiva con un gran gol di Ottaviani e forse l'unico errore di oggi è stato nel momento che loro erano in difficoltà, abbiamo avuto un paio di situazioni, potevamo fare i secondi, dopo le partite cambiano. Però bisogna riconoscere che ci hanno messo in difficoltà, davanti sono molto veloci, nell'uno contro uno spesso hanno creato dei pericoli quindi tutto sommato il risultato è giusto e dobbiamo crescere un po' come squadra nel senso che nel momento migliore bisogna saper chiudere le partite. Per il resto sono contento perché ho sentito il risultato di nuovo a Feltri che ha perso in casa con Riccione, quindi rimaniamo primi con due punti di vantaggio, teniamo Santermente a 4 e ci prepariamo bene per l'ultimo partito in casa col Verucchio per cercare di fare il massimo.